Numeri implacabili, quelli registrati giornalmente in Bergamasca. L'aumento dei casi di violenza sulle donne fa registrare un più 32%, 829 le segnalazioni da gennaio a oggi con un caso di stalking ogni due giorni. Con questi dati ci si appresta a vivere la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. A Son Gavazzo sono due le iniziative in programma. La prima sarà ospitata nella Sala Civica Benzoni giovedì 25 novembre alle 20.45 con la proiezione del video L'Iris Guerriera di Silvia Berretta alla presenza della regista e di Cristina Mostosi del Giardino dell'Iris di Trebecco. Mentre la prevista fiaccolata annunciata per le 19 è stata posticipata domenica allo stesso orario causa previsto maltempo. Una fiaccolata che è stata organizzata in collaborazione con il Comune di Onore partirà da Son Gavazzo, dal piazzale della chiesa parrocchiale, per arrivare alla panchina rossa stita nel Comune di Onore. Ci saranno alcuni momenti di riflessioni sul percorso, ci si fermerà, ci saranno delle letture, eccetera. Tornando alla proiezione, Silvia Berretta in questo suo ultimo lavoro racconta la storia di Cristina Mostosi, sorella di Paola, una solare e brillante 24enne di Tore Boldone, sequestrata, strangolata e gettata in un canale dell'isola bergamasca. Un tristissimo caso di cronaca di cui anni fa ci siamo occupati. Alla tragica scomparsa della sorella si aggiunge quella del padre Luigi, ibridatore di Iris e Barbate, di fama internazionale, che coltivava la sua passione nella casa di campagna a Trebecco, frazione di Credaro, con un giardino scosceso nella Valle dell'Oglio. Cristina, ereditato gli spazi fioriti, capiva da subito che quello non era un semplice giardino da mantenere, ma molto di più. Rappresentava il tramandarsi un amore per la bellezza che, come scrisse Dostoievski, salverà il mondo. La storia di Cristina è un inno alla vita, è un esempio bellissimo di come da una tragedia, da un momento molto buio nella vita di una persona, si possa comunque dare terreno fertile a quella vitalità, a quella lucina che comunque tutti noi abbiamo dentro e farla crescere e fiorire. Lei è un po' come il suo giardino, cioè questa esplosione di vitalità, di colori, di bellezza, di voglia di vivere. Ma Cristina non si ferma a trovare conforto nel suo giardino. Cristina, ed è la parte che più mi è piaciuto raccontare, decide di aprirlo, di condividere quello che a lei aveva portato conforto e attirare a sé le persone, le persone che cercano la bellezza, che vogliono trovare un obiettivo nella vita, che vogliono trovare un po' di serenità. Silvia Berretta nel suo cortometraggio riesce a trasmettere l'entusiasmo, la gioia e la vitalità di Cristina che va oltre ogni dramma personale.